Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di minecraft.cuboy.post bene ho fatto alcune cose che adesso vi faccio vedere allora ho tolto la furnage che avevamo prima questa qua l'ultimente perché l'ho sostituita a quella che avevamo di là l'ho settata così, adesso vi faccio vedere con auto e auto sia inter che entra, esport, questo l'ho fatto intanto è uscita ma bastava uscita perché non entra, però comunque sia non è importanza questo della configurazione queste sono quelle wifi e questo qui per consuma meno ma insomma non è che ce ne abbiamo bisogno come l'ho configurato? Gli ho messo un MA in port basso sotto e tutto il resto interface collegato brutto da vedere ma non ce ne frega un cazzo noi perché noi dobbiamo fare altro, una volta fatto così gli ho messo in un interface che adesso non ricordo quale, le ricette che avevamo di là queste, ma il bello è che e adesso abbiamo tre spazi invece dovremmo avere cinque perché io le cose non le controllo e dopo succede così MA interface, MA interface, MA interface non funziona perché lui vuole più energia va bene, mi fa piacere quindi purtroppo ne vuole tanta così almeno se ci sono problemi anche voi li vedete che come si risolvono ok mettiamoli più energia così facciamo come Gigrobot lo prendiamo da qua brutto da vedersi però dovrebbe funzionare siamo sempre a tre ok risolto siamo a cinque vedete cinque spazi per i craft per lo smeltering che non è male cioè potevo mettere il cavo dance fare prima perché non ce la fa più questo cavo dance a 19 canali sì però la potenza e quindi purtroppo è così dovevi mettere un accettatore qua e poi dargli l'energia lì perché qui c'è effettivamente potrei fare anche così o metterli direttamente come collogato qua a noi non ce ne frega come lo mettiamo l'importante è che funzioni e questo è quello che mi interessa dirvi adesso che sia bello brutto lo copriamo ce ne sbattiamo anche i marroni e siamo tutti a cavallo mettiamo qua così vi faccio vedere come funziona e siamo tutti a posto purtroppo capita di avere qualche piccolo intoppo ma basta risolverli si risolve sempre tutto in un modo in un altro lo trovo il metodo non vi preoccupate allora facciamo così facciamo così e così chiudiamo al meglio che posso vai grazie vedete alla fine rimane poco e niente e noi abbiamo anche queste a parte che qua che ci possiamo far così tutto chiuso non ci dobbiamo più andare proprio più andare e quindi noi siamo a cavallo ecco qua guardate se è più carino così questa troverò il metodo di nasconderla una volta che ho trovato il metodo di nasconderla siamo a posto anche questa magari adesso ci penso possiamo lasciare anche così e questa andare giù non è un problema comunque sia noi abbiamo cinque spazi che cazzo ok abbiamo cinque spazi per poter cuocerci di tutto ed è velocissimo ragazzi velocissimo instant proprio e quindi andare a sostituire perfettamente questa che sono contento beh dai è stata una idea che un po' che ci pensavo quando abbiamo fatto l'ultimate for nice questa qua la rainbow come cazzo si chiamola e vabbè me la prendo ne è rimasta un'altra che dopo faremo anche questa e siamo a posto dai piano piano sto sistemando al meglio che posso l'importante è che riesca a spiegarvelo senza fare troppe cacate quello sarà difficile vero allora io mettere via queste queste e queste così quando mi serviranno le andrò direttamente a prenderle queste la mettiamo dove è tutto il nostro preset del meccanismo così si chiama postolo che è qua che intanto volevo fare avevo detto che volevo fare due fila però ancora non ho non così grazie perché avviso è stato salto del cazzo eccolo qui qui dopo vedrò di alimentare adesso vediamo questi ritolgo ovviamente perché sono brutti e qua vediamo come poter fare per chiudere vedo e penso e poi vi dico adesso cosa facciamo mettiamo via la roba perché non si può vedere così ma sembra una cosa di centole eccola qua via questa via questa e questa qui mi servirà cosa vogliamo fare oggi andare avanti perché indietro non è possibile allora vediamo di mettere via un po' di cose ma io sto manuale dell'ingegner lo toglierei da Maroni che non serve un cazzo siamo posti poi ci metterei un cavo così vediamo tutti e quattro perfetto e sto pensando anche questo che non uso mai e questo che non uso mai li metterei dentro ah questi sono li chiede come tool quindi ce ne sbatta anche Maroni e niente facciamo così pazienza la Witchwater la metto via che per il momento non serve e abbiamo sistemato quasi tutto dai sono contento allora torniamo a noi quest alla mano cosa è rimasto la prima di mani mi ho fatta tutta la seconda farò questa che mi informo la terza gli alloy gli alloy cosa manica manica lander che adesso in teoria noi le perle ce le abbiamo scusate in mezz'ora mi ha fatto tutte queste direi che siamo super mega cavallo e tanti tanti saluti allora questa cosa dovevamo farci per ottenere cosa non mi ricordo già più benissimo sono contento quando le cose proprio mi ricordo queste ma si possono fare a mano chiedo vediamo un po' vediamo un po' pa-pa-pa-pa-pa sa ender ender ingot eccolo qua si può fare a mano certo che si può fare a mano noi non abbiamo problemi oddio facciamo così abbiamo fatto il 64 e tanti saluti a tutti perfetto tanto le enderpearl le facciamo e anche questa è andata vedete come è stato facile poi dobbiamo fare invar in gear beh questo sarà facile farlo insomma si invar ge ge eccolo qua vai così vai così lo mettiamo qua quanti ne voleva scusate qua e siamo a posto poi cos'altro vuoi l'endash 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 l'abbiamo fatta ed è qui quindi la prendiamo un attico salve signora mi scusi niente di personale ho dovuto rompere un attico e qua siamo a posto poi ti avvia questo ti avvia questo ti avvia questo cos'altro manica adesso qui dice possiamo fare varie cose sappiamo già cosa fa e adesso possiamo fare questo finalmente che si fa nell'endash smelter a questo punto con il dust diamond e l'endor pearl e l'head ingot il dust si fa nel crusher ma c'è anche un altro metodo perché ce ne sono più di una si facciamo nel crusher quindi prendiamo il diamanto che adesso è velocio andiamo nel crusher e andiamo a fare anche questo mangiamo per il mo' di dio ok andiamo nel crusher che sarà questo ti mette rich infusing crushing crushing facciamo così e siamo a posto a parte che dovevi venire qua no l'ho fatto già perfetto come vedete è una figata certo l'energia non è sufficiente ma dopo lavorerò quando servire tanto non diciamo mai fare una mega super pova l'energia non ha senso e quindi qui incominciamo a metterci questo e uno poi le ender pearl sono qua cinque già fatte cinque cioè vi dico non è bisogno di fare chissà cosa queste e adesso mi sono già dimenticato scusatemi so che sono una palla sono così adesso smelter eh l'head perfetto signor l'head mi scusi la devo prendere un attico e non si offenda eccolo qua e qui siamo a cavallo io penso e credo che non abbiamo più problemi di produzione perché finalmente le ender pearl abbiamo e cercherò di fare di lasciare il pc acceso un po' così ne abbiamo una quantità esagerata e siamo a posto ci mette tanto sto coso ma il bello che possiamo staccarlo e possiamo metterci la cassa in entrata e in uscita quindi volendo se proprio abbiamo un'esigenza esagerata di questo coso lo possiamo fare senza problemi quando posso automatizzare lo faccio sempre adesso appena mi fa vedere la cosa lo prendo siamo a posto possiamo andare avanti mamma mia cioè ci mette parecchio si si può velocizzare almeno io non so in questa versione gli argument sono già abilitati ah quindi non ci sono gli upgrade ci sono solo gli argument credo così a naso direi vabbè dopo ci guarderò voglio vedere se questo effettivamente ne fa due dai non la conosco questa mod ah questi sono gli argument interessante ok ho capito no dai va bene mi va bene poi possiamo fare plate possiamo fare gear non so a sto punto come crafting ah ce ne vorrà in modo compulsivo oh interessante abbiamo una tank infinita di fluidi che sarebbe utile da mettere nel nostro coso l'ultimale tingot ci vuole una madonna di cose cioè con singolarità non è un problema rifare vabbè sarà una palla ma il cristaline abbiamo visto che si fa con la nether start che non ho perché devo fare la fama di wither va bene ho capito che le direzioni che dobbiamo prendere non mi dispiace affatto qui intanto quante prendere perle vuoi scusi per sapere l'induction smelter ne vuoi due sei un po' esoso ti ho detto ma nessuno ti dico io sta tranquillo vabbè e questa è andata vediamo un po' cos'altro possiamo fare dobbiamo fare luminite che avevo già messo qua tempo fa qui che si fa con la meccanica perché se no l'avrei messo qua energizer smelter ok con l'humility blend che si fa mi dirà qualcosa a un certo punto ok possiamo farlo con quello ah si vede che l'avevo messo perché la potevo fare perché effettivamente l'induction smelter è qua e infatti la possiamo togliere ok allora facciamo questo con silver tin e glowstone perfetto silver ne prendiamo un bel po' la nostra bella furnace devo fare anzi li facciamo adesso va così a meno siamo a posto vi faccio di vedere un piccolo ripasso generale di come si fanno andiamo qua andiamo nella nostra bella furnace gli diciamo no non andiamo ad andare su una patta dobbiamo prima fare la pattern e fare la pirata come il mio solito andiamo qua andiamo qua andiamo qua ma non l'avevo già fatta questa l'avevo fatta infatti mi ricordavo di averla fatta vabbè ho fatto la mia figura di merda siamo tutti contenti ok scusate perché mi ricordavo l'avevo vista lì vabbè comunque andiamo qua e noi scriviamo silver no non scriviamo un cazzo lo vediamo direttamente qua silver ringot li facciamo mille next start e adesso lui se noi vediamo qua a parte che li vediamo qua li sta facendo in modo compulsivo vedete come va giù bene va giù che è una meraviglia ovviamente lui fa una stack alla volta però se lo stack non c'è va caricato un po' ci vuole però sono abbastanza contento quindi adesso noi scriviamo silver qui e vedete come sale c'è più di uno al secondo quindi non abbiamo problemi ok e questo è uno poi abbiamo detto che lo mettiamo qua qua lo togliamo mettiamo il silver scusate mettiamo via un po' di cose un po' di cose porca miserica silver lo mettiamo via led lo mettiamo via questo lo mettiamo via diamond lo mettiamo via e adesso vediamo di fare il resto quindi cosa facciamo serve il tin e la glowstone allora la glowstone dovrebbe essere qua e c'è gliela mettiamo e siamo a posto e adesso serve solo tin e abbiamo fatto anche questa vedete non è difficile dai piano piano si fa tutto bisogna avere un po' di pazienza esatto sta facendo ci metterà una vita quindi ci vediamo fra poco non mi voglio voglio annoiare e ok avemos luminite perfetto una volta luminite si faceva con la meccanismo mi ricordo abbastanza bene però probabilmente adesso qui in questo vedete che la meccanismo l'unica cosa è questa ma per fare questa non si fa in modo sano diciamo va bene dai sono contento abbiamo fatto anche questa e fa 4 volte mi va bene quindi togliamo anche questo e siamo a posto l'estero l'abbiamo già fatto e siamo a posto questo l'abbiamo fatto questo interessante lo farò e adesso vediamo un po' cosa è rimasto da fare ho tralessato qualcosa perché non ha suonato allora questi sono fatti questo è fatto questo è fatto questo è fatto 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 ah questo non lo vedevo proprio è proprio zero vabbè sono pira lo sanno tutti e andiamo avanti che è meglio vediamo un po' se c'è un modo assolutamente astruso per farlo la fire changer oddio si fa però questo macchinario devo farlo mi sembra strano che ci voglia solo questo vediamo un po' ok l'indasio smelter con silver copper e reston va benissimo silver che abbiamo un sacco copper e redstone perfetto mamma mia che cosa bella che c'è quindi ha fatto anche troppo togliamo e qui facciamo così benissimo dai sono contento perché alla fine siamo riusciti a far tutto senza eccessivi problemi e adesso aspettiamo ecco qua quasi fatto possiamo prepariamoci alla botta questo a cosa serve pochi crafting spero e credo che non serva per fare cose astrusamente astruse o con qualcosa vediamo forse no a qualcosa servirà dai intanto insomma se l'ha messa il signalum ma questa una volta serviva tanto questo signalum è per fare gli argument esatto il detonatore vabbè comunque quando servirà che ce lo chiederà sappiamo già come farlo e questo è già qualcosa e quindi anche questo task è completamente fatto vedete che bello questa è la thermal esattamente sì così andiamo anche a farla e a vedere un pochino allora magma crucible noi magma crucible ce l'abbiamo di sopra non l'ho mai adoperato che potevo farlo così avevamo la lava direte perché non l'hai fatta perché ormai quando me ne sono accorto era un po' tardi no che ero pirla che sono pirla insomma non mi sono accorto di quello ma che avevo potevo usarlo magma crucible perfetto è stato un piacere adesso andiamo avanti c'è poco alla usa boh mi sembra boio vabbè sa vediamo cosa c'è ancora poi il blast child no killer il blast killer è usato per frizzare rapidamente i liquidi dentro una forma solida cioè praticamente è usato per trasformare i solidi in liquidi definiteli definito hai bisogno di altro upcom machine c'è un argument vuoi dirmi va bene intanto facciamolo e poi vediamo per carità potrebbe essere una cosa interessante no che si può darsi di si adesso andiamo a farla dai sono contento sempre di imparare cose nuove il problema è che non so posso riuscire a spiegarvele bene perché una cosa imparata magari male viene fuori una cacata cercherò di impararla meglio ah il dai mix mi servirà poi dirò perché cosa ci manica tutto insomma facciamo così poi facciamo il ghiaccio come si faceva qui con l'acqua che ce l'abbiamo e no questo è il packet l'ice proprio in generale come cazzo si fa ma è facile con due blocchi di snow lì dentro quindi la snow l'avevo fatta perché l'avevo fatta ce l'avevo perché quando ho fatto tutti i soffitti con la switch wand l'exchanger come si chiama lui mi ha tolto questo sostituendo questo però li ha tolti in palle io le palle siccome erano troppe me le ho fatto due palle grosse e ho fatto tutti i bui i blocchi i cubi va bene quello di rubrica e quindi facciamo ovviamente lo sapete che io questo qui l'avevo spostato per fare prima vero? eh no perché insomma uno dice che non gli piace passeggiare nella valle verde e a me piace tanto come vedete io lo farei di continuazione vabbè è andata così che ci volete fare eccoci qua eccolo qui dovrebbe bastare l'energia che c'è vero e siamo a posto vediamo un po' il ghiaccio ne servono due grazie e spero fosse il ghiaccio normale no il packet glass il ghiaccio beh mi tocca fare l'energia totale ma no adesso facciamo una cosa vagamente e dico vagamente intelligente perché intelligente sarebbe dire troppo facciamo così e vediamo che succede vediamo un po' si sono andato a invadere quindi non era tanto intelligente no dai si può fare lo stesso facciamo così ecco qua io posso togliere questa cassa che posso invertirla questa è una cassa che se la rompo lui mi prende tutto quanto siamo tutti contenti aspettate 8 adesso questo allora va bene ci vediamo dopo ok ci ho ripensato allora prendiamolo perfetto adesso noi facciamo così si proprio così dobbiamo fare col pallino in mano voglio la mamma mettiamoci il nostro coso della coso del coso chiaro no il parlato italiano se non lo capite non è colpa mia insomma e poi mettiamoci questo poi rimettiamoci perché l'ho messo lì ma mi andava di metterlo scusate sempre da ridire avete eh porca miseria e niente non so perché ho fatto sta cacata però ma no qui porca vacca vabbè abbiamo spazio per un altro macchinario che vi devo dire è andata così ormai mi tenete per come sono e qui qui diamo e siamo a posto andiamo a vedere se non ho fatto una cacata esagerata ho fatto una cacata esagerata l'ho fatta proprio grossa ma no questo così allora ebbè porca vacca non ci sono oggi ok vabbè facciamo così tanti saluti eh sì dai facciamo così comunque qua devo buttarci la roba che non lo farò mai più nella vita quindi va bene lo stesso ok qua chiudiamo un attico per il moment e poi vediamo so che c'è il coso qui sono a posto allora ricominciamo da capo facciamo questo allora questo qui basta compressarlo poverino ci hai dei complessi e siamo a posto abbiamo un packet di glass e di ice ne abbiamo un po' qua no non li abbiamo quindi mi tocca aspettare per forza che questo li faccia va bene ci vediamo dopo ed eccoci qui insomma sì li ha fatte adesso lo lascio a fare un altro po' tanto insomma sì e vediamo un po' come fare ecco qua e abbiamo i due packet adesso possiamo fare il nostro macchinario ovviamente no perché manca questo ovviamente no perché manca il tin facciamo tin 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 vai fatto ok siamo così siamo a posto e questo l'abbiamo faccionato perfetto allora lo metto qua perché voglio capire come funziona sta dando energia mi fa piacere mi fai vedere le ricette devo metterci dentro qualcosa dei liquidi è un casting ok mi fa piacere questo ha bisogno dell'angel l'idea si potrebbe essere una cosa carina diciamo facciamo con l'acqua facciamo la snow e siamo a posto dite va bene tutti i liquidi in generale che ci sono disponibili che potete fare qui il slime ingot lui ce li trasforma nel caso lo smette non dovrebbe farlo va bene in più ci fa anche il ghiaccio lo snow va bene sono abbastanza contento dai ragazzi direi che ci possiamo anche fermare qua per questo video è tutto vi invito come solito a lasciare un like commento se vi piace di farmi appunto sapere cosa ne pensate per il momento vi saluto la Siva ciao ciao